Ciao, sei una geomica? Oppure sei già una professionista e vuoi implementare il tuo lavoro? Ti piacerebbe far parte del nostro team, Tito aziendibile? Siamo uno studio immobiliare, a colonno da 40 anni, ma in continua evoluzione. Siamo sempre pronte ad aggiornarci per essere al basso con i temi e svolgiamo il nostro lavoro in modo moderno ed innovativo. Anche tu vuoi metterti in gioco? Stai cercando una nuova sfida professionale? Stiamo cercando una figura di tecnico da inserire nel nostro studio. Se sei disponibile a mettere in campo le tue competenze e la tua voglia di imparare, supportate dalla nostra esperienza, potremo formare una squadra convincente. Contattaci, vieni a trovarci, conosciamoci!